un saluto a tutti da snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su castle clash prima di cominciare volevo andare a salutare matteo bacigalupo e vale x 81 pro detto questo ringrazio anche marco boss 69 per avermi dato l'opportunità di fare questo roll di 11.000 gemme che adesso ci andiamo a fare tutto quanto ad eroi allora lui mi ha detto sarebbe felice anche di trovare delle copie per evolvere golem e testo che infatti li vedo qui però gli servono anche degli eroi che potrebbero uscire quindi speriamo in qualcosa di buono e andiamoci a rollare subito tutte quante queste 11.000 gemme allora cominciamo iniziamo con blu e verdi come al solito subito un medusa che mi sembra che non ha subito un medusa vediamo un po vediamo un po medusa non c'era mi pare non c'era medusa no medusa non ce l'aveva quindi subito un nuovo eroe meno male va bene allora vediamo un po continuiamo carnefice alchimista e sciamani linfa dai facci una sorpresa dacci anche un gol e monteschio doppioni che doppioni di solito escono molto più facilmente della prima volta ok erano finiti gli slot continuiamo ancora blu demoni dei ghiacci rimangono 8.000 8.000 gemme proprio adesso allora linfa dai dacci qualcosa di nuovo invece niente un campione gelatinoso strega attenzione teschio adesso ma quando mai quando mai ancora linfa siamo sui 6.800 ragazzi allora subito un medusa però adesso qualcos'altro deve uscire perché solo con un medusa non ci accontentiamo attenzione dracax che non ce l'aveva nonostante non si parli proprio benissimo di questo eroe però un eroe nuovo è sempre un eroe nuovo se non ce l'aveva vediamo un po e infatti dracax non ce l'aveva un altro nuovo eroe siamo a quota 2 ok vediamo un po mancano 6.600 gemme non siamo neanche a metà per liberare spazio io direi di andare a tirare fuori questi due eroi utilizziamo vediamo un po dracax e se c'è spazio ok tiriamo fuori anche medusa ok allora siamo a quota 2 vediamo un po non siamo nemmeno a metà quindi sciamani blu c 5.900 ciclope inutile ancora più inutile dai sorprendici adesso no gelatinoso un campione ma gelatinoso vediamo un po sulle 4.200 licantropo alchimista dai dacci qualcosa di figo tipo trixie e invece no sono finiti di slot allora continuiamo con un assassino una linfa di cristallo attenzione un altro dracax vabbè c'è la copia per la prima evoluzione due dracax sono usciti in questo rollo oggi di dracax mancano 3.300 gemme attenzione un altro viola ma un campione gelatinoso vediamo attenzione cavalier morte cavalier morte vediamo se ce l'aveva cavalier morte ce l'aveva livello 40 giustamente non è una priorità andiamo avanti un altro campione gelatinoso il viola si vede parecchio in questo role ma non escono quegli eroi belli che piacciono a noi tipo trixie adesso no vabbè dopo tutti sti leggendari ste 2600 gemme andranno via niente vediamo ciclope attenzione ultimi role demone licantropo una copia per golem o teschio dai dai no trixie e quando mai invece un panda attenzione mancano solo pochissimi role e finiscono gli slot vediamo un po ultimi role gli lascio 300 così può farsi le missioni perché altrimenti del blocco allora 150 licantropo attenzione sirena inutilissima dai maledizione non ce l'ha voluto dare manca pochissimo ed è uscita sirena 800 angelo linfa ultimi due role trixie e invece no ragazzi invece non è uscito però abbiamo trovato due copie di dracax quindi si può fare l'evoluzione di dracax e menusa che vi posso dire che un buon eroe l'ho portato adesso livello 200 doppia e voi vi posso garantire che un ottimo eroe quindi andiamo a vedere con quale talento è uscito un inutilissimo colpo mortale per medusa un altrettanto inutile fodero della spada per dracax ma a questo punto possiamo andarci aprire anche l'altro dracax vediamo se è stato più fortunato eccolo qua anche l'altro dracax con inutilissimo autodistruzione va bene però due eroi nuovi sono usciti quindi risaluto marco boss 69 lo ringrazio per questo rolling e vi saluto anche a voi e ci vediamo come sempre nel prossimo video